Salve, posso avere un panino e una bibita? Ma certo ragazzo, sono 5 euro! Ah ok, perfetto, tieni! Perfetto, ecco a te! Ah ok, perfetto, grazie, arrivederci! Aspetti, ti sei dimenticato una cosa! Cosa? Per ogni acquisto di un panino e bibita c'è sempre un bicchierino in omaggio per ogni singolo cliente! Ah ok, grazie, arrivederci! Salve, arrivederci! Ciao, posso avere un panino e una bibita? Certo ragazzo, sono 20 euro! Ma come, così tanto? Sai, abbiamo avuto un po' di aumento, sai com'è? Ah, capisco, ma posso avere una bottiglia d'acqua invece? Certo ragazzo, sono 3 euro! Certo, eccolo! Grazie! Ma il bicchiere in omaggio? Quale bicchiere in omaggio? Ah ok, niente, scusa, salve, arrivederci! Ciao, buon concerto, ciao ciao! Salve! Dammi un solo minuto! Ma certo, faccia con calma! Eccomi, desidera? Anzi, sai che c'è? Io preferisco andare dopo il concerto al McDonald's e salva a riederci! Ma che strano! Vabbè, il mio lavoro qui è finito! C'è uno! I dream... I dream...